Mi n'entrago, io pensago, ogni bundi si è l'accordo E in Bratislavo chi è il sclavo, perché ti sgraccio il senpudo Vosmanino, caffèino, io me l'assumino in paz E in Chievo, Belarremo, mi declamisco un'auda Io vorrei Ai danu danu danai, dra danu danai Ai danu danu danai, dra danu danai Se vuoro in Roma leh, se vuoi E' un'opendlando, vi dosvi, si un poion Ai danu danu danai, dra danu danai 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 Siamo in la studio di Vinyl Cosmo, e in un momento vi ringrazio i due albumi di Yomo, che è una buona album, che sicuramente dovete accettare. Ma su questo album, mi chiede con diversi musicisti, con cui in generale mi chiede sull'escenza. Mi chiede in due gruppi di musica. Una band di rock, con cui mi chiede sull'escenza, con cui mi chiede sull'escenza sull'escenza di musica, e un altro band, che è un gruppo di musica tradizioni dell'Oriente Europeo, Russo, Ucraina, Polo, Iida e Cigana. Quindi mi chiede a mixare tutti i due albumi. Quindi mi spero che il risultato sia buono. Quindi mi chiede a cercare, ma solo lavorare, e il disco è ancora finito. Quindi mi chiede a cercare, mi chiede sull'escenza sull'escenza. no 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 che non si può fare perché malo pude poter imperfusare come se lo sapevo che si 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 sapevo ma la a la l'amore Grazie a tutti.